Come si gioca al TCG di Carfight Vanguard? Quali saranno le dinamiche che muoveranno il GCC targato Bushiroad? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nato nel 2011, Vanguard ha avvicinato moltissimi appassionati provenienti da tutto il mondo alle sue meccaniche semplici ed avvincenti, supportato anche da una serie animata che ancora oggi trasmette le avventure dei protagonisti in sfide mozzafiato. E sarà proprio in questo video che ne scopriremo le dinamiche in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per il TCG di Vanguard vedrà una zona dove posizionare il proprio Vanguard ed altre 5 dove schierare le retroguardie ed un ultimo cerchio specifico per i guardiani. Una parte del campo di battaglia utile per l'innesco ed una dedicata ai danni, vedremo fra poco a cosa serviranno, uno spazio specifico per il mazzo G ed infine le due zone dedicate al deck e alla pila degli scarti. Per iniziare una partita vi servirà un mazzo composto da esattamente 50 carte, tra le quali dovranno essere presenti 16 inneschi, vedremo fra poco cosa saranno, ed uno da 8 elementi che dovrete posizionare nella G zone. Sarà da notare che tutti gli elementi inclusi in entrambi i deck non potranno essere presenti in numero superiore a 4 unità per singola carta. Prima di qualsiasi azione dovrete andare a posizionare il vostro Vanguard coperto nella sua zona dedicata, selezionandolo tra gli elementi presenti nel deck. Quest'ultimo dovrà essere un personaggio con grado pari a 0, capiremo fra poco come individuarne uno. Quindi procederete mescolando il mazzo andandolo a posizionare nella sua zona designata, per poi pescare 5 carte dalla sua cima formando così la vostra mano iniziale. Se quest'ultima non vi soddisferà potrete optare per un mulligan. In caso dovesse accadere andrete a posizionare un qualsiasi numero di carte in vostro possesso in fondo al deck, pescandone quindi altrettante fino a che non tornerete ad avere 5 carte in mano, mescolando il mazzo alla fine del procedimento. Non ci sarà alcun limite di carte che potrete avere in vostro possesso. In seguito, attraverso un sistema casuale, deciderete quale giocatore inizierà per primo. Potrete servirvi di un dado per lo scopo. Quindi esclamando, risvegliati, andrete a voltare la carta Vanguard mostrandola sul campo di battaglia, dando subito dopo inizio al match. Ok Arconte, ed ora che ho pescato le mie prime 5 carte? Scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta nel TCG di Vanguard riporterà, per i personaggi il proprio grado di appartenenza. L'icona innesco scopriremo fra poco a cosa servirà, assieme all'icona talento che potrà essere di 4 tipologie, supporto, intercetto, doppio e triplo assalto. Lo scudo che tornerà utile in caso di offesa rivale. Il box degli effetti. Un test citato che riporterà una frase celebre del character. Il nome della carta, il suo clan di appartenenza. La razza di cui fa parte. La tipologia che potrà essere di 3 tipi, normale ad innesco e G. Il valore di critico, con la forza che la carta possiederà da utilizzare in caso di battaglia. Ed il nome dell'illustratore della carta, con la sua rarità ed il set di appartenenza. Fine. Infatti, quello che caratterizza Vanguard è l'assenza di magie o trappole che potranno essere utilizzate per mettere i bastoni in mezzo alle ruote all'avversario durante il suo turno. Al loro posto ci saranno unicamente personaggi, che attraverso le loro abilità creeranno scontri che vedranno interi eserciti combattere per la supremazia di campo. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. I personaggi saranno l'unica componente di ogni deck. Essi, una volta scesi in campo, sfideranno sia il Vanguard che le retroguardie e avversarie, cercando di creare delle brecce tra le difese rivali. Ne esisteranno di tre tipologie, unità normali ad Innesco e G, che vedranno per i secondi un vincolo di numero pari a 16 elementi per deck. Ok Arconte, perfetto. Ed ora? Non ci resta altro da fare che scoprire assieme le diverse fasi che comporranno un turno di gioco. Il primo step, chiamato Risveglio, vi permetterà di ripristinare tutte le vostre carte presenti sul campo di battaglia cambiando il loro stato da riposo ad attivo. Sarà da notare che nei primi turni di un match entrambi i giocatori salteranno questo primo passaggio. Ogni qualvolta che vorrete riposare una carta attiva per innescarne gli effetti, utilizzarla in un determinato momento dell'incontro o dichiararci battaglia, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Quindi una volta svolta questa operazione, accederete alla fase di pescata, dove andrete ad aggiungere una carta dalla cima del deck alla mano. Fatto ciò, entrerete nello step di convocazione, dove una volta per turno potrete impiegare una carta dalla mano con grado pari o superiore di un'unità al vanguard già presente in campo, posizionandogliela letteralmente sopra. Ricordate, se un vanguard avrà grado 0, non potrete piazzargli sopra un personaggio con grado 2, quindi l'evoluzione dovrà essere crescente. 0, 1, 2, 3 e 4. Notate bene, solamente il vanguard potrà aumentare di grado. Ci saranno comunque delle condizioni, o per meglio dire una condizione da rispettare, per effettuare una convocazione con successo, ovvero che i vari gradi di creatura appartengano tutte allo stesso clan, salvo casi eccezionali. Quindi, dopo aver compiuto anche questo passaggio, accederete alla fase principale, dove potrete svolgere ognuna delle opzioni che seguiranno, in qualsiasi ordine, quante volte vorrete, finché potrete. Durante la main phase potrete svolgere 4 micro step che vi consentiranno di effettuare, se possibile, una convocazione stride, ovvero piazzare fino alla fine del turno un'unità G di grado 4, selezionandola dal proprio mazzo dedicato, seguendone le regole di evocazione. Schierare una retroguardia, scegliendo dalla mano un'unità con grado non superiore a quello del vanguard, posizionandola di seguito in uno dei cinque cerchi dedicati per l'appunto alle retroguardie. Spostare queste ultime scambiandole di posizione dalla seconda alla prima linea e viceversa. Sarà da notare che non potrete effettuare uno scambio muovendo una retroguardia orizzontalmente o sostituendo lo stesso vanguard con un character che si trova in seconda linea ed utilizzare le abilità act di ogni personaggio, se presente, pagandone il costo di innesco che troverete descritto tra due o più parentesi quadre. Sarà da notare che potrete attivare quest'ultima tipologia di effetto quante volte vorrete fino a che potrete pagarne il costo. Arconte, prima hai detto che l'unità G può essere convocata e resterà in campo fino alla fine del turno. E poi chi fine farà? Una volta che il vostro round giungerà al termine, l'unità G verrà riposta, scoperta, nel proprio deck dedicato e non potrà essere più convocata, ma tornerà utile per l'utilizzo della parola chiave Generation Break o abbreviato GB che utilizzerà come costo di attivazione proprio le diverse unità G poste a faccia in su nella G-Zone. Quindi una volta preparati a dovere per lo scontro potrete accedere alla fase di battaglia. Qui la prima cosa da fare sarà scegliere un'unità sotto il vostro controllo posta in prima linea ed attaccarci mettendola a riposo, per poi selezionare un personaggio rivale come bersaglio dell'offensiva. A questo punto potrete supportare l'assalto attraverso l'unità posta in seconda fila direttamente dietro l'attaccante stesso, che possiederà inoltre la rispettiva icona posta nella parte alta a sinistra della carta. Notate bene, il supporto dovrà possedere un grado inferiore rispetto a chi si troverà in prima linea. Per farlo vi basterà mettere a riposo anche il supporto stesso per sommare il valore di forza della retroguardia alla potenza dell'attaccante. Ciò vi permetterà di sferrare offensive potenziate atte a distruggere le fila rivali. Quindi dopo aver sferrato l'assalto toccherà al difensore rispondere all'offesa, schierando i guardiani presenti nella mano sulla rispettiva zona del campo, andando a rafforzare a sua volta così l'unità attaccata. Per farlo gli basterà impiegare tra le carte in suo possesso elementi che possiederanno uno scudo e avranno un grado pari o inferiore al proprio vanguard. Alla fine della fase di difesa, i guardiani dalla loro zona dedicata verranno ritirati finendo nella pila degli scarti. Si potranno utilizzare quante carte con scudo si vorrà per ogni singola battaglia. Se chi attaccherà invece sarà il vanguard, innescherete quello che prenderà il nome di controllo d'assalto. Per attivare con successo questo micro step dovrete scoprire la prima carta del deck, piazzandola di seguito nella zona innesco presente sul campo di battaglia, e se quest'ultima sarà un'unità innesco e proverrà dallo stesso clan del vanguard o di una delle retroguardie, l'effetto verrà attivato in accordo all'icona posta in alto a destra della carta. Indipendentemente se poi la stessa carta rivelata durante questo passaggio sarà o meno un'unità innesco, essa finirà nella mano del proprietario alla fine del controllo d'assalto. Ok Arconte, perfetto, questo è quando deciderò di dare battaglia con il mio vanguard. E se invece quest'ultimo verrà attaccato? In quel caso si parlerà di controllo del danno, e il procedimento sarà praticamente lo stesso di quello d'assalto, con l'unica differenza che le carte alla fine di questa fase andranno a finire nella zona danni. Vedremo fra poco a cosa servirà quest'area nello specifico. Quindi una volta decisi quali saranno i personaggi che si daranno battaglia, potrete passare al calcolo dei danni. Se la forza di chi avrà sferrato l'offensiva sarà pari o superiore al difensore, si procederà come segue. Se in difesa verrà colpita una retroguardia, quest'ultima verrà sconfitta e posta nella pila degli scarti. Mentre se sarà un vanguard rivale ad essere stato colpito, esso riceverà danno pari al punteggio critico dell'attaccante. Quindi se sarà di uno, chi difende subirà un danno. Se invece la difesa supererà in termini di forza l'attacco, il tutto si risolverà con o nulla di fatto e nessuno dei due giocatori dovrà né ritirare un personaggio in campo né subire alcun danno. Notate bene, solo le prime linee potranno combattere tra loro, mentre non sarà possibile con un attaccante bersagliare una retroguardia posta in seconda linea, salvo casi eccezionali. In più solo le unità in stato di attivo potranno attaccare o supportare un attacco. Ultima notizia, ma non per importanza, sarà che chi inizierà per primo un match salterà la fase di battaglia. Quindi se avrete altre prime file che vorrete lanciare all'attacco, potrete farlo ripetendo da capo ogni singolo passaggio appena descritto presente nella battle phase. Altrimenti accederete direttamente alla fase finale terminando il turno, passando quindi la mano al vostro avversario. Aspetta Arconte, una cosa non mi è chiara. Tra i vari effetti presenti su una carta ho notato che ce ne sono diversi oltre ad Act, come ad esempio Auto, Cont e diverse icone che rappresentano delle azioni da svolgere. Cosa stanno a significare e quando si potranno innescare? Vediamola assieme. Oltre alla già menzionata Act, che potrà essere attivata durante la fase principale, ci saranno le parole chiave Auto, che vedrà un'abilità automatica per l'appunto innescarsi se una specifica condizione o timing verranno soddisfatti. Cont, ovvero l'abilità continua, che avrà effetto fin quando la carta che la possiederà si troverà nelle diverse zone del campo di battaglia, se non diversamente specificato. Il Controattacco, che potrà essere innescato non appena subirete danno per sferrare un assalto a vostra volta ai danni dell'attaccante, anche se vi troverete in fase difensiva, e verrà indicata da un'icona raffigurante due carte con una freccia ricurva sulla parte alta seguita da un valore numerico riportato all'interno di un cerchio a sfondo bianco, che rappresenterà un costo di innesco che potrete soddisfare voltando con il dorso rivolto verso l'alto le carte presenti nella zona del danno, mentre quando vedrete un'immagine con due carte su una delle quali verrà riportata una lettera V e l'altra avrà una freccia che punterà verso l'esterno ed il solito bollino bianco con un valore numerico all'interno, potrete far sferrare al personaggio in questione un attacco dell'anima. Per soddisfare il costo di questa abilità dovrete rilasciare le anime situate direttamente sotto il Vanguard, quindi se il costo di innesco sarà di due ad esempio, dovrete mandare due carte poste sotto il Vanguard stesso nella pila degli scarti. Ed infine, se vi ritroverete davanti un'icona con tre carte, su una delle quali comparirà una V ed una freccia che punterà questa volta verso l'interno dell'immagine, con anche qui il solito cerchio a sfondo bianco ed un valore numerico al suo interno, avrete la possibilità di usufruire di una carica dell'anima. Per pagare il costo di questo effetto dovrete semplicemente aggiungere carte dalla cima del deck direttamente nell'anima del Vanguard. Se ad esempio un elemento vi richiederà un costo pari ad 1 per innescare l'abilità, vi basterà spostare la prima carta dalla cima del deck piazzandola sotto il Vanguard. In più ci sarà l'abilità Counter Charge, che vi consentirà attraverso il suo innesco di voltare le carte presenti nella zona danni con la parte frontale rivolta verso l'alto. Con il tempo comunque le abilità Attacco dell'anima, Carica dell'anima, Controattacco e per l'appunto Counter Charge hanno subito un restyling, passando dalle icone che abbiamo appena visto a dei banner dove sono state riportate in chiaro le terminologie appartenenti ad ogni effetto. Perfetto Arconte, ma ancora un paio di concetti mi sono poco chiari, come ad esempio le icone talento. Come funzionano? Come già accennato, ne esisteranno di quattro tipi. Supporto, che potranno dare manforte al Vanguard o a qualsiasi retroguardia in prima linea durante una battaglia sommando il loro valore con quello dell'attaccante. Intercetto, che vi permetterà di piazzare un personaggio situato in prima linea direttamente nel cerchio del guardiano, proteggendo altri elementi da attacchi come un'altra retroguardia o lo stesso Vanguard, e doppio e triplo assalto, che permetteranno ad ogni unità, normale o G, con queste icone che sferreranno un attacco, di effettuare rispettivamente un doppio o triplo controllo d'assalto, aumentando così le carte in proprio possesso alla fine del procedimento, incrementando allo stesso tempo la possibilità di mostrare un'unità innesco. Ed a proposito di unità innesco, quando vi ritroverete una carta con un'icona critico fornirete più 5.000 forza ed un più 1 al valore critico di un caratter sotto il vostro controllo fino alla fine del turno. Potrete scegliere anche due bersagli diversi per la risoluzione di questo effetto. L'icona pescata assegnerà sempre più 5.000 forza ad un'unità fino alla fine del turno e vi permetterà di pescare una carta dalla cima del deck, Cura, che andrà a conferire i soliti 5.000 punti potenza ad un singolo bersaglio alleato fino alla fine del turno e se possiederete danni pari o superiori a quelli avversari vi curerà di un danno. Sarà da notare che le carte che verranno selezionate potranno essere sia coperte, se utilizzate per l'innesco di un effetto controattacco che scoperte e verranno poste dalla zona danni nella pila degli scarti, e il risveglio che oltre ad assegnare anche qui 5.000 punti in termini di forza ad un attaccante fino alla fine del turno, risveglierà per l'appunto anche una delle vostre retroguardie messe a riposo, che quindi saranno disponibili per un secondo attacco o per supportare ancora un attaccante. Potrete scegliere anche qui due bersagli diversi per la risoluzione di questo effetto. Ci sarà da dire comunque che a breve arriverà per la versione italiana del gioco, dato che tra quella nostrana e la versione inglese esiste un abisso di differenze, la meccanica G-Guard, che aumenterà il numero di elementi presenti nel mazzo G da 8 a 16 e avrà una dinamica di innesco tutta sua, che stravolgerà ancora una volta questo TCG. Tutto da scoprire. Perfetto Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita in Vanguard? Quando farete raggiungere al vostro avversario 6 o più punti danno, verrete automaticamente proclamati vincitori dell'incontro. Allo stesso modo vi aggiudicherete il match se chi vi giocherà contro, pescherà l'ultima carta dal proprio mazzo. Come sempre in descrizione vi lascerò tutti i link utili, così da migliorare sempre più la vostra esperienza ludica. E voi quale clan sceglierete? Avete già un Vanguard che rappresenterà pieno la potenza del vostro esercito? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.